Tragico incidente in A1, due vittime tra cui il conducente pratese del furgone che ha oltrepassato il guardrail. L'Unione Italiana Cech e Ipovedenti presenta Letty Smart, nel bastone entra l'elettronica per la vita indipendente. La doppia l'offerta formativa post-diploma per la moda tessile e i corsi riguardano figure molto richieste nel mercato del lavoro. Dopo un avvio ostentato e un solo punto in tre partite, il Prato cerca il riscatto nel derby con l'Aglianese. Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato. In primo piano la cronaca con il tragico incidente avvenuto ieri attorno alle 13.30 sul tratto fiorentino della A1, poco dopo l'area di servizio Chianti. Due le vittime, un 73enne pratese che era alla guida di un furgone in direzione sud e che ha perso il controllo del mezzo compiendo un salto di carreggiata. Morto anche il conducente di una Land Rover, un 47enne di Figline, che percorreva l'autosola in direzione opposta e che si è trovato di fronte il furgone lanciato ad alta velocità oltre il guardrail. Feriti gravemente due passeggeri del mezzo che ha fatto il salto di carreggiata sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Careggi. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche vigili del fuoco, polstrada e personale di autostrade per l'Italia. La A1 è stata chiusa per tre ore al traffico e si sono formate di code di 14 chilometri in direzione di Roma e di 7 chilometri in direzione di Bologna. La situazione è poi tornata alla normalità soltanto nel tardo pomeriggio. Ancora a cronaca, tre spacciatori attivi tra Montemurlo e Montale sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Montale che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia. Le indagini hanno consentito di documentare la fiorente attività di spaccio di cocaina compiuta da tre cittadini marocchini residenti a Prato e a Montemurlo nel periodo compreso tra gennaio 2021 e luglio 2023. Gli spacciatori giungevano nei luoghi concordati con i clienti anche a bordo di monopattini elettrici con cui si muovevano per evitare i controlli delle forze dell'ordine. Secondo i carabinieri, in una prima fase, uno dei tre dirigeva gli altri due connazionali, deputati all'inizio soltanto alla consegna dello stupefacente. Nel tempo poi all'interno del gruppo sarebbero insorti dei dissidi che avrebbero spinto due pusher a continuare le attività illecite mettendosi in proprio. Cambiamo argomento e parliamo della Letty Smart, un dispositivo elettronico inserito nel bastone con il quale l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti conta di migliorare la vita indipendente dei propri associati. Lo strumento funziona con messaggi sonori e con onde radio. Vediamo. Un sistema innovativo che mette la tecnologia al servizio della vita indipendente. È Letty Smart, sviluppato dopo sette anni di ricerca dalla ditta Scena e dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Semplice il funzionamento che sfrutta le onde radio, il dispositivo elettronico è integrato al bastone e non ne compromette la leggerezza. Attraverso due tasti è possibile interrogare Letty Smart per avere informazioni utili a raggiungere luoghi di interesse nell'ambiente circostante che sono localizzati tramite il posizionamento dei radiofari, delle piccole scatolette simili a quelle del Telepass di cui l'associazione chiede una diffusione più ampia possibile. Gianni è pronto per uscire. Sgancia dal caricabatterie il suo cellulare e il suo bastone bianco attrezzato con Letty Smart luce per la sua sicurezza e Letty Smart voce per agevolarlo nella sua autonomia personale. Uscito di casa si reca alla fermata dell'autobus dove imposta il suo Letty Smart voce in modalità autobus e aspetta che il bastone gli anticipi l'arrivo della linea 30 che lo porterà verso il centro. Appena sente l'annuncio linea 30 stazione centrale preme il tasto di prenotazione e il conducente del bus viene avvisato preventivamente che alla fermata c'è un non vedente che deve salire. Gianni ascolta le informazioni a bordo e una volta sceso imposta Letty Smart in modalità informazioni urbane e poco dopo il bastone emette la vibrazione seguita dal messaggio semaforo caduci verso battisti portici e lui ne prenota la segnalazione sonora che si attiva sul semaforo portandolo al tasto di prenotazione. Questa è una semplice soluzione che mi permette di attivare attraverso un sistema radio dedicato particolare che si chiama l'ora di attivare questi suoni che provengono appunto dai radiofari questi dispositivi che sono che sono disseminati nella città sugli autobus nei semafori sui sopra i negozi sopra l'ingresso di una chiesa sopra l'ingresso dell'unione italiana ciechi eccetera eccetera sono piccole scatolotti che suonano semplicemente però lui mi dà tutte le informazioni di quello che io attorno a me mi dice per esempio se io ho un pericolo lavoro in corso mentre mi avvicino a quel pericolo lui già me lo dice. Letty Smart è stato presentato a Prato in salone consigliare nell'ambito dell'evento la carovana dell'autonomia urbana nel corso del quale l'unione italiana ciechi e i povedenti ha distribuito anche la città del presente un volume che raccoglie un gran numero di informazioni consigli e immagini con lo scopo di essere un semplice strumento di indirizzo per aiutare i tecnici del settore a progettare spazi inclusivi. Non vogliono essere soluzioni rivolte soltanto alle persone con disabilità visiva ma soluzioni che possano includere tutte le persone e per questo nel volume è possibile trovare tanti suggerimenti trucchi per tutto quello che riguarda la progettazione e lo sviluppo quindi potremo vedere come poter procedere per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, gli attraversamenti in strada, per quanto riguarda gli arredi urbani e anche comunque gli arredi interni. Anche a Prato si terrà la preghiera per la salvaguardia del creato. L'appuntamento è per lunedì 2 ottobre alle ore 21 presso la chiesa di San Pio X alle Badie. La giornata mondiale per la cura del creato cade il primo di settembre e segna l'inizio del tempo del creato che termina il 4 di ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Nel suo messaggio per la giornata Papa Francesco ha invitato ad ascoltare l'appello a stare al fianco delle vittime dell'ingiustizia ambientale e climatica e a porre fine a questa insensata guerra al creato. L'appuntamento pratese è stato promosso dalla Commissione Ecumenismo e Dialogo Interreligioso insieme al gruppo diocesano dei nuovi stili di vita. Cambiamo argomento e parliamo di economia e di formazione perché raddoppia a Prato l'offerta formativa post-diploma per la moda tessile. Meet Academy e PIN presentano due corsi biennali per figure molto richieste nel mercato del lavoro. Commerciale tessile e tecnico di prodotto e processo tessile. Saranno questi due i corsi biennali di istruzione tecnica superiore post-diploma della fondazione ITS Mita Academy che saranno attivati a Prato per l'anno formativo 2023-2024. I corsi gestiti in collaborazione con il PIN, socio fondatore del Mita, si avvalgono della collaborazione con Confindustria e Istituto Buzzi per l'alta formazione sulla moda tessile. 1800 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di stagio in azienda è quanto prevede l'offerta formativa di ciascuno dei due corsi che saranno presentati il 2 ottobre alle ore 15 al PIN di Piazza Ciardi. I due percorsi sono uno più centrato sulla parte commerciale, la parte laboratoriale in quel caso è simulazione di vendita e anche sperimentazione di quelle che sono le parti produttive, quindi comprendere che tipi di prodotti si devono andare a vendere. L'altro è un tecnico processo e prodotto, quindi con un laboratorio pratico di realizzazione di filati e tessuti e una parte manageriale di gestione del processo. Vengono fatti in collaborazione con PIN, ovviamente, con l'Istituto Superiore Buzzi che ci offre i locali per fare la parte laboratoriale. Le iscrizioni ad entrambi i corsi scadranno il 13 di ottobre. Per coloro che li hanno frequentati nelle scorse edizioni, l'inserimento nel mondo del lavoro è stato molto positivo. Siamo alla terza edizione, anche se prima facevamo un anno uno, un anno l'altro e i numeri ci dicono che circa tra l'80 e il 90% dei ragazzi trovano lavoro a pochissima distanza dalla conclusione del corso, quindi sono numeri che per una formazione sono ottimi. Il polo universitario si sente un po' la responsabilità sulle spalle di formare persone con grandi competenze e questi corsi, devo dire, sono dei corsi molto applicati che vengono svolti direttamente nelle aziende, i ragazzi imparano, apprendono subito e almeno quelli che sono già passati da questo percorso di studi sono stati veramente molto contenti dell'efficacia del metodo di insegnamento. Quindi penso che sia una cosa importante poterlo riattivare a Prato, frequentato sia da pratesi sia da non pratesi perché il bacino può essere anche più ampio. Ettore Bernabei, diari 1956-1960 tra giornalismo e impegno politico, è questo il titolo del libro curato da Gianni Labella che è stato presentato ieri sera alla libreria Giunti al Punto in Corso Mazzoni. Ettore Bernabei, giornalista e produttore televisivo, ha diretto prima il giornale del mattino e poi il popolo, successivamente approdato alla RAI di cui è stato direttore generale dal 1960 al 1974. Un protagonista dunque dell'Italia della seconda metà del Novecento e i diari offrono quindi un sorprendente affresco della politica italiana e internazionale di quegli anni. Sentiamo adesso le interviste raccolte da Giacomo Cocchi durante la serata organizzata dall'Associazione Punto d'Incontro. Cosa ha rappresentato Bernabei per la RAI? Sicuramente un salto di qualità, sicuramente un passaggio da un progetto in erba a una forse televisione vera e una televisione che ha avuto un ricordo per tutti gli italiani, ha avuto l'informazione ma anche la formazione, lo sceneggiato ma anche i TV7, anche le trasmissioni che riprendevano le notizie e le decodificavano e le rendevano fruibili alla maggioranza degli italiani. E questo forse è quello che manca alla televisione di oggi? Non possiamo dire proprio questo, però sicuramente oggi c'è troppa televisione, ci sono troppi canali e sicuramente la TV nazionale non riesce a tenere il passo di tutta questa concorrenza. Ci sono altri appuntamenti, altre iniziative in programma, in ponte? Sì, ci sarà sicuramente un autunno importante con sicuramente qui alla fine dell'anno due incontri e poi noi stiamo lavorando alla conclusione del libro su Luigi Biancalani che si presenterà entro la fine dell'anno. E adesso lo sport, calcio, il Prato cerca la prima vittoria in campionato nel derby contro l'Aglianese. Vediamo la presentazione della gara nel servizio di Massimiliano Masi. La quarta giornata del campionato di Serie D, Girone D, propone per il Prato il derby con l'Aglianese. La partita si giocherà domani con inizio alle ore 15 allo stadio Lungo Bisenzio. Il Prato, reduce dalla sconfitta sul campo del Mezzolara, adesso è attestato al penultimo posto in classifica e cercherà di rimpinguare il proprio bottino in classifica contro l'Aglianese grandi firme. Squadra affidata all'ex tecnico della Lucchese Maraia e con al centro dell'attacco il grande ex, il doge Riccardo Boccalon. Insomma, un brutto cliente. Sappiamo il valore dell'avversario, poi i derby su partiti con gli altri valgono sempre tre punti, sono diversi. Però poi l'atmosfera e tutto quello che circonda è poi una preparazione per un derby. Però noi sappiamo che è il valore dell'avversario, ma anche noi abbiamo un grande valore e dobbiamo cercare di crescere rispetto alla partita di domenica scorsa. L'Aglianese come il Prato ha avuto un avvio di campionato zoppicante, una vittoria e due sconfitte. L'ultima beffarda casalinga contro la Pistoiese maturata proprio durante il tempo di recupero. Il Prato per la sfida con l'Aglianese dovrà rinunciare a Casucci squalificato, oltre a Piccoli, Marangon e il portiere Fogli, ancora agciaccati. Il nuovo tecnico Raffaele Novelli in settimana ha provato la squadra con una partitella amichevole contro la formazione Juniores, nella quale ha riproposto il modulo 4-3-3. Tutte le sconfitte che quando le subisci le devi analizzare con equilibrio, perché ci sono degli aspetti positivi e poi ci sono molti aspetti negativi pure. Non bisogna commettere l'errore di far passare anche gli aspetti positivi e negativi, se no si vede il buio. Noi non dobbiamo vedere il buio, dobbiamo vedere ogni giorno la luce, cercare di, attraverso il lavoro giornaliero, di migliorare, perché poi dico sempre che la partita è una ripassata di quello che fai durante la settimana. Il Prato è pronto ad affrontare l'Aglianese nel big match di giornata, siamo soltanto alla quarta giornata di campionato, ma né lanieri né pistoiesi possono più sbagliare, lo dicono i numeri, lo dice la classifica. Il telegiornale del giorno si conclude qui, l'informazione di TV Prato torna stasera come sempre alle 20.30 con il TG Serale. Vi ricordiamo alle ore 18 in diretta dal Duomo la celebrazione della Santa Messa prefestiva. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.